Miei cari salve a tutti, benvenuti e soprattutto ben ritrovati qui sul canale, qui su The Zion Tivoli, io sono ovviamente Spazio, quest'oggi ragazzi parliamo del trailer del Gladiatore 2, è uscito finalmente ieri sia in inglese che in italiano, per cui che cosa andiamo a fare? Ce lo andiamo a rivedere perché l'ho visto ieri, quindi in prima battuta, però me lo rivedo volentieri con voi così lo commentiamo e lo analizziamo per bene, cercando di capire cosa aspettarci da questo secondo capitolo che ha fatto tanto chiacchierare di sé in queste settimane, insomma in questi mesi, da quando è stato annunciato, per cui ce lo andiamo a rigustare un pochettino. Prima di farlo però brevemente ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un like e un commento, vi invito anche ad attivare la campanella per rimanere aggiornati sui contenuti che porto qui su The Zion Tivoli, qui sotto in descrizione trovate anche i link per seguirmi sui miei profili social. Banda ad ulteriori ciance, ve lo prometto, andiamo a vedere un po' questo trailer. Ok, si parte? Bonnie Nielsen. Ecco Paul Mescal. Con il ricordo di Massimo. Ci sono questi flashback diciamo. Ed ecco Denzelone. Che ci è sembrato un po' con quella risata, sembrava un po' Training Day all'inizio. Scenicamente non è affatto male però, guarda qui. Ecco le Naumachie ragazzi, molto interessante questo aspetto. Molto molto interessante. Ecco gli imperatori, Geta e Caracalla. Generale Acacio, ci sono vittorie che devono ancora arrivare. Con Acacio, che è interpretato da Pietro Pascal. Che si nutrano di guerra. Che non sembrerebbe avere un buon rapporto, ecco con gli imperatori, da quello che vediamo. Ecco il nostro Denzelone. Molto rabbimente cerca di portare dalla sua parte Lucio. Ecco che si entra nell'arena. Oh, Rino Cerontone. Rino Cerontone. Carica. Vai. Così una botta leggera. Per soddisfare questa rabbia, quella di tutti i soldati romani. È troppo. Ah, bene, bene, bene. Un azzardo. Ecco la risata che abbiamo visto anche all'inizio. E qui c'è Acacio che scende nell'arena. Perché qualche info in merito l'abbiamo, ne parleremo fra poco. L'anello di Massimo. Qual è il sogno di Roma? Il suo popolo non è libero. Ok. Magrino lo vedo bello lanciato. Ecco Joseph Queen. E poi lo scontro fra appunto Acacio e Lucio Vero. Insomma, sarà uno dei punti, immagino, più importanti, no? Infatti ci stanno facendo vedere forse un po' troppo. Questi trailer tendono a spoilerare un po' troppo forse. Ed eccoci qua, ragazzi. Insomma, siamo arrivati al termine. E facciamo appunto qualche considerazione. Allora ragazzi, che cosa possiamo dire da questo appunto trailer? Cioè, secondo me a livello scenico non possiamo dire che, insomma, Ridley Scott non sappia mettere in scena determinate sequenze di battaglia, un po' di quell'epica, di quel senso epico. Quanto meno a livello estetico, ecco, mi sembra che questo non si può negare. Diciamo che i toni di questo trailer, e quindi penso anche di quello che poi sarà il film, mi sembrano dei toni un po' più smorzati rispetto a quelli del gladiatore. Il gladiatore, nonostante i difetti che aveva sul punto, sul versante della veridicità storica, qualche critica che giustamente è stata rivolta al gladiatore, però a livello, insomma, epico, solenne, quell'atmosfera aulica, diciamo, proprio dell'epica antica, c'era tutta, insomma, quella bella atmosfera epica, che poi, appunto, è stata un po' la fortuna, no, del gladiatore, unita alla fantastica colonna sonora, insomma, degli attori eccezionali, Russell Crowe e Joaquin Phoenix, su tutti sicuramente, però, ecco, quello che ci tengo a precisare è che, da quello che vedo, insomma, da questo trailer, quel senso maestoso, epico, non sembrano esserci nella stessa dose in cui, invece, erano presenti nel gladiatore, che poi hanno reso, comunque, il film, ripeto, al netto, poi, delle incongruenze storiche, un film, comunque, fra i migliori, sicuramente, degli ultimi, degli ultimi trent'anni, questo è poco, ma sicuro. In questo trailer vedo, un po', ecco, questi toni più smorzati e diretti a un qualcosa, un po' più di, passatemi il termine, un po' più tamarro, un po' più arrogante, un po' americano, ecco, la classica americanata, sotto certi punti di vista, però non in quei termini così dispregiativi come sembrerebbe, perché, indubbiamente, non mi aspetto che questo possa essere un film, ripeto, al livello del primo, anche perché stare al livello del primo significherebbe, comunque, ripeto, essere uno dei migliori film degli ultimi anni, visto poi il grande successo che ha avuto il gladiatore. Però, ecco, vedo questi toni un po' più tamarreggianti, ecco, un po' più ignoranti, e, diciamo, in linea con gli ultimi tempi, cioè rendere un po' il tutto più attuale, più commerciale, ecco, mi sembra un po' questo. Però, ripeto, non è necessariamente un male assoluto, cioè, magari il film non è quel filmone, ripeto, che è stato il gladiatore, ma non è manco quella schifezza totale che possiamo, che molti si aspettano, ecco, quindi cerchiamo di essere un po' equilibrati, anche perché, comunque, pur avendo perso, forse, quella, ripeto, quella solennità, quel senso aulico generale, non dimentichiamoci che Ridley Scott certe cose le sa fare molto bene, insomma, ragazzi, quindi, anche da quello che possiamo osservare da questo trailer, insomma, queste naumachie, queste battaglie navali che si facevano all'interno del Colosseo, in cui veniva proprio riempito d'acqua il Colosseo, grazie all'abilità ingegneristica, tecnica degli ingegneri romani e dei romani, appunto, in generale, sono, mi sembrano, rappresentate anche molto bene da quel poco che possiamo vedere. Il fatto che poi possa essere presente questo rinoceronte, magari in molti può sembrare un'esagerazione, ma in realtà, all'interno del Colosseo, tutto era esagerato. C'erano le battaglie, insomma, gli scontri con gli animali, gli animali esotici, c'erano le naumachie, per cui, ragazzi, questa esagerazione che può per molti scadere, ecco, in una tamarrata, in un'americanata, cerchiamo di valutarla bene, perché da un certo punto di vista era comunque presente, ovviamente, questa grande esagerazione, ostentazione all'interno delle battaglie nel Colosseo. Quindi, sicuramente il tono sia un po' abbassato da quello che vedo, però non è detto che il film sia così pessimo come possa, ecco, come molti possiamo attenderci o aspettarci. E poi, mi sposto su che cosa? Sugli interpreti, ho visto un Denzel Washington, anche lui mi è sembrato un po' più attualeggiante, diciamo, un Macrino che in teoria dovrebbe essere questo imperatore, perché ci viene presentato Macrino, insomma, nelle varie informazioni che abbiamo, queste brevi informazioni che abbiamo, come un trafficante d'armi, un mercante, però in realtà sappiamo che c'è stato un Macrino imperatore, un Macrino che era di origine nordafricana, insomma. Quindi poi anche queste polemiche sul colore della pelle, cioè, io sono il primo a volte, diciamo, a criticare il politicamente corretto, la cultura woke, per quello che ha fatto. In questo caso direi che ci può anche stare, non sarei così negativo, nel senso che Macrino comunque era di origine nordafricana, hai un attore come Denzel Washington, che è un attore comunque importante, ricordiamoci poi che nel Gladiatore 1 e nel Gladiatore 2 non è che dobbiamo puntare alla veridicità storica, ragazzi. Se vogliamo la veridicità storica, scordiamoci oramai di andarla a rintracciare nei film o nelle serie TV. Andiamo a leggere libri, quello è il nostro pane, se poi siamo grandi appassionati di storia. Purtroppo è così, salvo qualche eccezione che sicuramente c'è stata e sicuramente ci sarà, però oramai la stragrande maggioranza dei prodotti è questa, non andate a rintracciare la veridicità storica. Per cui avere comunque un attore come Denzel Washington è sicuramente una cosa importante. Vediamo come saprà rendere il suo Macrino, che mi è sembrato, ho fatto una battuta nel corso del trailer, mi è sembrato con questa risata, questo suo atteggiamento, un po' un Denzel Washington in stile Training Day, non so se lo ricordate, però ecco, sicuramente è da rivalutare Macrino, che avrà un ruolo, da quello che vediamo, molto importante all'interno del film. Poi che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto appunto Paul Mescal, che è un attore poco conosciuto magari rispetto agli altri protagonisti, ha fatto comunque qualche film interessante recentemente. Vi invito magari a recuperarlo, ad esempio è stranei, il nemico, se non mi sbaglio, non è conseguito proprio totalmente la filmografia di Paul Mescal, però non sottovalutatelo, insomma, potrebbe essere interessante la sua interpretazione. Altrettanto intrigante, interessante, sembra essere invece, sembrano sicuramente essere le figure dei due imperatori, ovvero Geta e Caracalla. Il primo, interpretato da Joseph Quinn, perché si pensava inizialmente che Joseph Quinn fa Caracalla, invece da quello che sembra, perché poi non è nemmeno così semplice distinguerli, forse Caracalla è un po' più tozzo, almeno da quello, da come è stato sempre rappresentato nei busti, eccetera, eccetera, però inizialmente si pensava che Joseph Quinn fosse Caracalla, invece a quanto pare da quelle che sono le ultime notizie, interpreterà Geta, anziché Caracalla. Caracalla, che invece sarà interpretato da Fred Eichinger. Poi abbiamo visto Connie Nielsen, brevemente, che ritorna nei panni della madre di Lucio, ovvero Lucilla. Ci sarà, a quanto pare, presente anche Derek Jacobi, che se vi ricordate del gladiatore, insomma, il primo era il senatore Cracco, quindi ci sono comunque dei personaggi che ritornano e facenti comunque parte del gladiatore del 2000, e quindi dovremo anche un po' capire come Lucio si è allontanato da Roma. Sembra che vada nel Nord Africa, a lottare appunto nelle arene del Nord Africa, un po' come fece anche Massimo, se vi ricordate, no? E quindi questa cosa, ecco, apro una piccola parentesi, questa cosa che molte situazioni sembrano ricalcare un po' il primo, non mi piace troppo, nel senso che sembra essere un po' tutto votato al fanservice, a far riaccendere la lampadina in coloro i quali hanno visto il primo gladiatore, che rivedono magari determinate sequenze che gli sbloccano dei ricordi, sono delle operazioni un po' furbe, ecco, e con poca originalità da un certo punto di vista, mi sembra che ci siano delle cose che ricalcano un po' troppo quanto abbiamo visto nel gladiatore con Russell Crowe. Però vediamo quello che sarà appunto il percorso di Lucio, il perché si è allontanato da Roma, eccetera, eccetera, è tutto un po' da capire. Il personaggio di Pedro Pascal, invece, Marco Acacio, inizialmente lo vediamo, vediamo come Lucio abbia questa ostilità nei confronti di Marco Acacio, però da quello che possiamo notare dal trailer, mi sembra che possa essere almeno inizialmente un personaggio forse leggermente negativo, però sembra allo stesso tempo anche in contrapposizione comunque agli imperatori, per cui potrebbe essere un personaggio molto sfaccettato, che potrebbe avere uno sviluppo interessante, ecco, nel corso del film. Lo vediamo quindi con Lucio, che inizialmente, ripeto, ha questa ostilità, però poi sentiamo anche che si oppone, no, da quelle brevi frasi che si possono sentire nel trailer, si oppone alle decisioni degli imperatori, per cui è da vedere anche quale sarà l'evoluzione del personaggio di Pedro Pascal all'interno appunto del film. Joseph Quinn, che comunque in molti ricorderanno anche per Stranger Things, no, all'interno della quarta stagione interpretava Eddie, mi sembra un attore molto talentuoso, e quindi vederlo nei panni dell'imperatore Jetta, Jetta, Caragalla, adesso ragazzi purtroppo dovrebbe essere Jetta, poi perdonatemi, insomma, se ci sbagliamo da questo punto di vista, comunque sembra essere molto nei panni, ecco, dell'imperatore. Lo vedo assolutamente a suo agio, è un talento, insomma, è un attore che mi è piaciuto molto in Stranger Things, per cui credo che possa dimostrare tutte le sue abilità anche nel Gladiatore 2. Quindi ci sono degli aspetti sicuramente che non mi convincono, ma ci sono anche altri aspetti che mi danno sicuramente più fiducia. Ripeto, non dimentichiamoci che comunque Ridley Scott, al di là che negli ultimi anni ci ha presentato dei film sicuramente meno convincenti di altri, penso appunto a Napoleon, che non ho apprezzato particolarmente, House of Gucci, però ci ha regalato anche The Last Duel, che per me è stato un film molto, molto interessante, molto ben fatto, ben costruito, ed è passato anche un po' sotto traccia The Last Duel di Ridley Scott. Invece in quel caso è stato veramente un'opera ben confezionata, che ci ha portato nel clima medievale, in piena regola, con, insomma, Matt Damon, Adam Driver, un film, secondo me, fra i migliori degli ultimi anni, ed è passato, ripeto, un po' sotto traccia, l'hanno un po' sottovalutato, quindi Ridley Scott è un regista eccezionale, ragazzi, poi che alcune storie, narrazioni, siano fatte, siano state fatte un po' non perfettamente, ecco, negli ultimi anni, e quello è dovuto magari più alla sceneggiatura che altro, però lo vediamo anche qui, ci sono delle scene molto belle a livello visivo, estetico, forse un po' più tamarre, ripeto, questo ve lo concedo e me lo concedo sicuramente, però non dimentichiamoci, insomma, che Ridley Scott ci ha regalato delle grandissime perle che sono entrate, comunque, nella storia del cinema, Alien, Blade Runner, Il Gladiatore e tanti altri. Le cose che non mi convincono, invece, sono appunto questo clima che si è un po' abbassato, questo, ecco, questa solennità che pare si sia un pochettino persa, poi magari non è così, vediamo, però da quello che ho osservato, dalle prime impressioni, mi pare che sia un po' così, e qualche cosa che scimmiotta un pochettino il primo gladiatore, qualche scena, qualche situazione che ricalca un pochettino troppo il prequel, ecco, e quindi non vorrei che ci fossero delle situazioni un po' copia e incolla. Ah, poi ragazzi, quasi dimenticavo, perché avevo un po' il volume del trailer basso, ma anche la stessa musica che è stata scelta verso il finale del trailer mi è sembrata insomma stonare parecchio con quello che dovrebbe essere il contesto e l'ambientazione del film, mi è sembrata un po' una musica in stile Fast and Furious, ritornando al discorso tamarrata che abbiamo fatto nel corso del video. Mi auguro quindi che la musica invece reale all'interno del film possa essere di tutt'altra fattura, se ricordiamo poi specialmente quelle del primo film, insomma del gladiatore, che erano delle musiche eccezionali. Per il resto ragazzi il giudizio un po' rimane sospeso, cioè ci sono delle cose che mi sono piaciute, altre cose che mi sono piaciute di meno, però nel complesso non voglio essere così negativo, ecco vedo un po' il bicchiere mezzo pieno e mi auguro che questo possa essere un film comunque di buona fattura. Torno a ribadire ragazzi, non andate a rintracciare la veridicità storica in questo film, perché comunque ci saranno delle incongruenze, delle inesattezze, mi raccomando, anche perché ripeto oramai di prodotti serie, film che siano perfettamente o quantomeno più vicini possibile alla perfezione storica, non ce ne sono. Quindi l'importante per me è che innanzitutto sia un film ben fatto e che sia spettacolare, ma spettacolare nel senso giusto e ci restituisca un po' quell'epica, se vogliamo, di quei tempi antichi. Ecco, questo è un po' il mio augurio da un certo punto di vista. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo trailer, del trailer del Gladiatore 2, che uscirà, vi ricordo, a metà novembre nei cinema, il 14 se non mi sbaglio, il 14 novembre nei cinema, poi vediamo se ci sarà qualche altro trailer, informazione, ne parleremo sicuramente. Nel frattempo fatemi sapere la vostra nei commenti, io ragazzi vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, un abbraccio a tutti voi da Spazio. dipra volumes di 50% di 50% di 40%